Questa è una scena già vista, questo è un gelatino, se Francesca lo fa lo sta pulendo, se lo gira un attimino perché ha una forma strana perché era sotto un tronco guardate che era sotto un tronco, quindi cresceva orizzontale guarda che roba impressionante Franci? Franci qui bisogna... allora li vendo a Leonetti spegniamo dai, andiamo sulla poggiatina poi scendiamo e ce ne andiamo ecco, Franci guarda l'occhio assassino vai